ciao adesso vi farò vedere un po di cose che mi sono arrivate da Toreba in più pacchi però vabbè ho detto facciamole vedere tutti adesso che insomma allora vediamo un po vediamo di cominciare con quella più piccola no in realtà erano tre ordini allora eccolo qua allora questo è disney luxury watch donald version a perché c'erano due versioni adesso qua c'è disney licensed merchandise shanghai made in china made in china qui c'è il bombolino passed qui c'è l'etichetta di Toreba qui c'è la scatola disney disney made in china così e qui qui c'è cos'è beh ovviamente le istruzioni ha giusto come regolare il cinturino e qui c'è il cuscinetto e qui c'è l'orologio che aspettate che tolgo tolgo questo urca che ore sono 13 e 14 aspetta è giusto 13 e 13 va bene 13 e 13 ora adattissima a paperino vabbè vedete c'è dentro la pila molto bello poi dopo lo regolerò comunque molto bello vedete qui c'è qui vediamo aspettate ah stainless steel ok si quindi qua c'è anche la pellicola che poi vabbè togliela dopo comunque molto bello sarà di quelli probabilmente si sente tic tic vabbè comunque carino bellino il fatto che abbia le braccia di paperino che segnano le ore e adesso al 15 16 vabbè dai dopo lo regolo meglio comunque bello bello dopo lo regolerò gli regolerò anche il cinturino eccetera bene e uno ok poi vediamo cosa posso far vedere questo questo è mickey e minnie premium towel gift set ma l'avevo già aperto vedo vedere allora la scatola è così qua c'è disney qua c'è si vedono mickey e minnie con dentro i vari asciugamani eccetera qua è a righe così qui c'è l'etichetta di toreba disney qua di nuovo righe qua c'è fan fan amuse sega disney vabbè questo insomma prodotto su licenza qui c'è vabbè sega plaza eccetera tutte le raccomandazioni gioia prize vediamo un po' qui c'è un bel nastro bello carino poi c'è uno questo mickey e minnie carino oddio bellissimo questi sono quelli qua c'è anche fan fan amuse siga disney eccetera questi qua sono quelli che in giappone usano per asciugarsi il sudore infatti mi sa che adesso non fa più così caldo però uno magari vedo quale che carino troppo bello ok poi vediamo di aprire questi due qui così questo sarà di con su mickey probabilmente o forse no si infatti molto carino mickey così con i pua l'etichetta qui così fan fan amuse disney bello 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 sa che forse uso questo ma vabbè poi ci sarà minnie sempre pua rosa però infatti che bello che carino a me piacciono un sacco queste illustrazioni così e poi ecco dove c'è questo cos'è uno sticker che lo so aspetta che guardo no è un bigliettino con su mini c'è anche con topolino no ah si si guarda oh che carino non so se li tengo e poi qua c'è ah ecco qui c'è un bella un bel telo grande qui c'è una cosa tipo cioccolata che bello qui c'è minnie qui c'è minnie e topolino come quello che c'era qua il primo e qui c'è topolino bello bello poi bello anche il fatto che sembra tipo una stecca di cioccolata bellissimo questo invece questo qui mi sa che lo porterò oggi al lavoro posso dire quello di Sumiko Gurashi che ho lì si 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 ok ok allora poi poi eh allora vediamo beh in questo ordine avevo preso anche il eh come si chiama una 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 cosa per fare il kakigori di rilakkuma che il kakigori è il eh tipo la grattachecca per capirci eh che poi ci metti dentro so salse e altre cose fai insomma tipo granatina insomma eh poi vediamo un po' questo era da solo mi sembra no vediamolo un po' ah è vero che c'era anche c'era anche c'era anche c'era anche aspettate un attimo eh vabbè intanto vi faccio vedere questo questo questa è una borsa di urusei azura qua in italia conosciuto vedete qua c'è lamu e ataru e qua urusei azura che è il titolo originale di lamu appunto quando ero vista c'era questa e poi c'era un'altra tipo sul rosa con solo lamu però questo qui mi piace di più perché c'è la coppia diciamo molto carina è fatta dalla show pro o distribuita dalla show pro ah no è fatta da ban presto ok giaia prize ecco c'ha le maniglie fatte così è anche bella grande cioè guardate aspettate che però devo andare a prendere un'altra cosa ecco un'altra cosa è questa che io pensavo fosse anche più grande va bene ehm aspettate un'attima che devo dicevo appunto ho preso anche questa che è una ciotola qua dice una ciotola per la carne ma vabbè per beef bowl cioè beef bowl con il coperchio di Gudetama allora la scatola è così qui c'è Gudetama qui c'è tutto Gudetama qua vabbè non lo so qua c'è la insomma la foto della ciotola qui c'è una serie di Gudetama bellissime qui qui anche qui c'è Sanrio qua c'è il bollino della Sanrio Giaia Prize Eiko che è la marca che fa queste cose qui ah ecco qui c'è vedete si si da metterci dentro la carne poi c'è il coperchio e ecco ecco se riesco a poggerlo su quasi aspettate ecco vedete qui c'è il coperchio molto carino con su i Gudetama c'è anche uno qui che è tipo Gudetama re vabbè io speravo di usarla per per il ramen sapete quelli quelli nella bustina per mettersi giù ramen con il col brodo e poi mettersi sopra il coperchio da insomma da tenerlo al caldo fino a che non sono preparati ma è è piccolissima vabbè vabbè magari la userò per quando mi farò il riso o roba del genere vabbè comunque molto carina qua ci sono tutti i Gudetama bellissimo ehm 2013 2019 sabbia molto bella molto bella molto bella e infine oh perché l'ho messo qua per terra vabbè questa che è una non riesco neanche a farvela vedere tutta bene ecco ecco che è una borsa termica che sembra tipo in jeans di paperino con suo paperino e ce ne erano due mi sembra perché questa qui è esatto no tre ce ne erano Disney Insulated to the bag with gasset che non ho idea di cosa sia C sì quindi almeno tre ce ne erano ah sì perché c'era topolino Winnie Pooh e paperino siccome di paperino non ho tante robe ehm qui ehm have a nice day let's go to where is today va bene cioè ehm buona giornata andiamo dov'è l'oggi bene va bene dietro non c'è niente dentro è così vedete classica borsa termica qui c'è una specie di taschina dove uno può mettere dentro o non ho idea cosa e poi qui c'è l'etichetta vabbè made in china qui c'è il bollino bollino disney disney ok ecco bene ok allora alla prossima ciao ciao